Ciao amici fantacalcisti d'Italia, ritorno anche oggi con un nuovo video con i 5 centrocampisti da schierare assolutamente al fantacalcio per la ventunesima giornata di serie A. Vi invito a seguire tutto il video perché alla fine vi lascio una bella sorpresa, quindi seguitelo tutto con attenzione che ci sarà davvero una bella cosa per voi. Comincio col dirvi ragazzi un bel like al video, iscrivetevi al canale e niente cominciamo subito con i 5 nomi in questione. Il primo nome che ho messo fra i migliori però non in top 11 è Acancia Lanolu, l'ho messo perché settimana scorsa si è negativizzato però non è stato convocato per Bologna-Milan, quindi questa settimana in Milan-Crotone l'ho voluto mettere fra i consigliati, lo metto sia per il valore del giocatore sia per la partita che secondo me magari è molto abbordabile visto le qualità del crotone in fase difensiva che sono veramente scarse e poi mi aspetto magari una voglia in più da lui dopo alcune partite saltate che come vi dicevo causa Covid. Che dire altro? Il Milan a Bologna secondo me ha fatto bene, quindi probabilmente mi aspetto una partita con il Milan che faccia almeno 3 gol, quindi qualche bonus me lo aspetto anche da Cialanolu. Dopo questo primo nome magari importantissimo andiamo a un altro sempre importante come Milinkovic-Savic. Lo metto perché il Lazio-Cagliari secondo me potrebbe fare veramente bene. Milinkovic con l'Atalanta mi è piaciuto un sacco, infatti la gazzetta dello sport addirittura ha dato voto 7,5. Effettivamente in quasi tutte le azioni c'è il suo zampino con dei lanci anche se non ha fatto nessun assist. Mi è piaciuto sia in fase di rottura sia in fase di costruzione perché come dicevo tante azioni sono partite ai suoi piedi. Mi viene in mente l'azione in cui manda Lazzari a tu per tu con Gollini o l'azione in cui manda Pereira a fare l'assist per Murici. Quindi effettivamente oltre questo poi ha preso un palo sul colpo di testa dopo una super parata di Gollini. Quindi veramente eccezionale pensando che giocava contro una delle squadre più forti del campionato che era l'Atalanta. Quindi magari il Lazio-Cagliari mi aspetto quantomeno oltre a un ottimo voto un qualche bonus anche da parte sua. E' un giocatore completo e magari a Fantacalcio un po' sottovalutato perché soprattutto se si gioca con i ruoli Fantacalcio.it magari ci sono giocatori che giocano molto più avanti rispetto a lui. Andiamo con il terzo nome. Il terzo nome che vi ho messo secondo me è un giocatore che potrebbe ritornare a fare bene perché nelle ultime partite magari sulla sufficienza o anche meno. Roberto Soriano ho messo ci sarà Parma-Bologna come vi dicevo nelle ultime partite non ha portato bonus quindi mi aspetto magari a Parma che quest'anno è veramente in difficoltà. un bel bonus magari pesante da Roberto Soriano perché ricordiamo che ora è un po' sottovalutato perché in tantissimi mi avete scritto magari lo scambio non sta più facendo bene però vi ricordo che all'inizio era partito fortissimo era impensabile che continuasse tutte le giornate a portare bonus però secondo me ora ha un calendario quantomeno agevole quindi io inizierei a metterlo titolare e vi dico per chi lo possiede non scambiatelo a meno di clamorosi scambi io lo terrei e ci punterei anche perché anche lui è listato centrocampista ma in realtà è un trequartista poi come vi dicevo la difesa del Parma sta subendo tantissimo in questa annata pure quando è tornato d'Aversa magari un po' meno goleate però i gol li stanno prendendo ugualmente quindi per tutte queste ragioni vi dico io Roberto Soriano se lo ho me lo tengo e lo schiero anche per la ventunesima giornata. Andiamo con il quarto nome Antonio Candreva ci sarà Benevento Sampdoria e quindi lo metto lo metto tra i titolari anche tra i consigliati primo perché perché secondo me Quagliarella non giocherà tutte le partite come ha detto Ranieri da titolare magari avendo giocato settimana scorsa se Quagliarella o parte in panchino o comunque magari gioca 60 minuti e poi esce ha anche la possibilità di calciarvi un rigore quindi è molto più semplice possa portarvi un bel bonus. Oltre questo la difesa del Benevento ultimamente soprattutto prende un sacco di gol quindi mi aspetto che magari Benevento Sampdoria non è detto che vinca la Sampdoria però mi aspetto magari una partita aperta con diversi gol quindi se non porta magari un bonus pesante ve ne può portare uno magari qualche assist o comunque è un giocatore pochi sempre dalla media media voto molto buona anche magari quando la Sampdoria non vince difficilmente prende magari un'insufficienza quindi per tutte queste ragioni ho inserito anche Antonio Candreo l'ultimo nome come sempre il quinto è diciamo un nome meno altisonante degli altri questa settimana vi ho messo Jasmine Kurtic l'ho messo perché l'ultima partita con Napoli mi è piaciuto in alcune incursioni e quindi ho voluto premiare lui ovviamente non è se avete dei top a centro campo magari non è dovete mettere Kurtic però magari se dovete fare una scelta fra due giocatori meno importanti io lo metterei su nome Parma-Bologna come vi dicevo prima potrebbe essere una partita da gol quindi con tanti gol quindi mi sento di premiarlo anche perché ho visto il Napoli belli inserimenti e comunque più al centro del gioco del Parma quindi per tutte queste ragioni direi Kurtic di schierarlo se lo avete detti i cinque centrocampisti passiamo alla sorpresa che vi avevo promesso allora il nome che io magari dei centrocampisti che in tanti fantacalci si hanno che svincolerei o comunque se non lo svincoli magari lo dai per scambiarlo è Malinoski lo so che a tanti di voi che lo avete preso piace un sacco però vi dico nell'Atalanta sono veramente in tantissimi è arrivato anche Kovalenko Pasalic ora è tornato Pessina che all'inizio del campionato era infortunato si è ritagliato un posto da titolare Ilicic non esce quasi mai dal campo e in più quindi ora è vero che ci saranno anche le coppe quindi ci saranno più partite quindi si giocherà magari più spesso però io Malinoski lo darei via comunque lo scambierei per tutte queste ragioni che vi ho elencato il centrocampista invece che andrei che andrei diciamo a comprare se fosse svincolato il primo logicamente è Zaccagni e questo non ve lo devo dire io perché si è dimostrato un vero un vero top a centrocampo comunque di una fascia molto alta magari il nome che sicuramente sarà svincolato nelle vostre fantaleghe diciamo lasciando perdere Zaccagni perché lo menziono come primo perché in tante è svincolato quindi prenderei lui però se magari Zaccagni non è svincolato o comunque magari non riuscite a prenderlo perché avete pochi crediti il nome su cui punterei io anche se non è sempre titolare è Pessina è vero sempre da Atalanta sono in tanti a centrocampo però secondo me è un qualcosa in più cioè è un giocatore di quelli che difficilmente ci rinuncia Casperini quindi proverei a prendere proverei a prendere lui anche perché a centrocampo non è che sia arrivato chissà quali giocatori quindi se devo prenderne uno prendo proprio lui con questo ragazzi è veramente tutto vi invito a lasciare il like iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e in più ragazzi attivate le notifiche perché domani pubblicherò i 5 attaccanti da schierare assolutamente al fantacalcio e in più come ho fatto oggi vi lascerò un'altra sorpresa su chi svincolare magari dei giocatori forti e su chi puntare su quelli che sono arrivati o comunque che sono svincolati con questo è veramente tutto ciao ragazzi grazie a tutti